E' tutte le volte, tutte le volte. Chi è? Io. Io chi? Sì. Chi è me, chi è me? Scusa, ma sei tu? Cioè... Hai aperto con le chiavi? Eh? Cioè, ti sei pur seduto comodamente sul trono? Come se non la fosse. Cioè, ma non ti vergogno? Cioè, hai una faccia proprio di bronzo, ma quella originale. Dopo che otto anni fa te ne sei andato fregandosi di tutti e di tutto, eh? Dicendomi, vado a comprare le sigarette? Ti presenti così? Cazzo, le sigarette! Muovemi. Ma, oh! Ma che non si proprio... Ah! Strunzi! Eccoci, la sento. Ti vado la carne? No له la carne! No. No. Dororo. Ho. M!?